Mattarella, che cosa ha indotto? Qual è il messaggio profondo che ha trasmesso Mattarella stasera, oggi in quel Parlamento? Io credo che abbia detto un paio di cose importanti, tra cui uno, non dimenticare nessuno, ha ricordato più volte la politica e il significato di dignità, l'abbiamo già detto molte volte, 18 volte, la dignità sta nel legame della politica con le cittadini, non sono solo trame di palazzo, ma la politica si deve occupare della gente e ricordare anche tutte le velocità con cui bisogna eseguire quello che è stato messo sulla carta, segna ancora una volta la vicinanza che la politica deve avere vicino alla gente, vicino ai cittadini, vicino ai propri elettori, perché altrimenti non è più politica, ma sono affari di palazzo. Quanto è forte il discredito dei partiti negli italiani? È tantissimo, il 70,4% lunedì sera, pubblicato mercoledì, ci ha dichiarato che questa settimana Quirinalizia ha distrutto la politica, nel senso che ha portato uno sfascio e ha portato in luce tutto quello che non andava bene. La maggior parte delle visioni era sotto la luce di tutti, cioè mediaticamente questo evento, a differenza di quella di Napolitano e anche quella di Mattarella precedente, non aveva queste luci così puntate, quindi tutto anche i nomi che uscivano a una velocità incredibile non ha aiutato sicuramente, infatti solo chi è rimasto un po' più silente, non ha proposto, leggi Letta ha perso meno e chi invece è rimasta coerente, leggi Giorgia Meloni, hanno guadagnato, anche Matteo Renzi ha guadagnato nel consenso di quello che in inglese viene chiamato indice di approvazione, noi lo chiamiamo indice di fiducia e Giorgia Meloni ha fatto un salto in avanti quasi di 4 punti e anche il suo partito nei nostri sondaggi, ripeto sono sondaggi fatti a caldo, quindi non è che sono delle pietre, migliari, ferme, però danno l'indicazione di come si sta muovendo la gente. Salvini, nell'indice di fiducia che lei ha rilevato, come è messo? Lui e Conte hanno perso rispettivamente 5,3 e 5,2%. È tanto? È molto? È tantissimo. È tantissimo. Allora...